Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Serena Enardon nelle scorse ore è stata attaccata duramente sui social. I followers l'hanno offesa con parole al vetriolo. Scopriamo che cosa sta accadendo alla ex protagonista di Uomini e Donne. La tronista sarda ha ricevuto decine di messaggi, attraverso i quali i fan hanno espresso opinioni forti su di lei e sul suo comportamento. Ecco per quale motivo il pubblico social sta criticando, e facendo letteralmente a pezzi la ex tronista Serena Enardu. Serena Enardu, attaccata pesantemente sui social.Senza dubbio tutti conoscete la splendida Serena Enardu, diventata nota per il grande pubblico dopo aver occupato il trono di Uomini e Donne. Dopo l'avventura al dating show di Canale 5 infatti, la ex tronista originaria della Sardegna è diventata uno dei volti femminili più gettonati del piccolo schermo. Con il suo carattere determinato e la sua magnetica bellezza mediterranea Serena è stata protagonista di numerosi contenuti televisivi di successo, e in particolar modo di tanti reality show seguitissimi. La Enardu è stata una delle concorrenti del grande fratello VIP e ha preso parte anche a Temptation Island VIP e si è messa in gioco mostrando il suo temperamento senza filtri, e facendosi apprezzare da un pubblico sempre più ampio. Nonostante i telespettatori amino molto il suo personaggio, e apprezzino anche la gemella Elga, Serena Enardu nelle scorse ore sta ricevendo una pioggia di offese. Scopriamo per quale motivo il web ha deciso improvvisamente di attaccare la ex tronista di Uomini e Donne. Le parole al vetriolo dirette alla ex tronista.In questo periodo Serena sta sponsorizzando il brand di Moda Shane, e ha pubblicato dei video in cui indossa alcuni dei pezzi prodotti da questa azienda. In particolare, nelle ultime ore la splendida influencer Sarda si è filmata con un copricostume traforato, e anche con due bichini della collezione estiva del noto marchio Fashion. I fan hanno apprezzato i capi d'abbigliamento, e alcuni si sono spinti anche a esprimere pubblici commenti sul fisico statuario di Serena. I followers più affezionati le hanno detto che i costumi da bagno le stanno davvero benissimo, e le donano molto. Lei ha un corpo perfetto e senza dubbio i bichini esaltano le sue forme sensuali. Tuttavia qualcuno trova di cattivo gusto mostrarsi sui social in abiti succinti. I più accaniti tra gli utenti di Instagram hanno detto che non dovrebbe indossare costumi sgambati alla sua età, altri addirittura hanno commentato il post in cui Serena ha pubblicato le immagini dei costumi Shane con, ma un po' di pudore? Facendole intendere che dovrebbe vergognarsi. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao.